Riapriranno dal prossimo 1 luglio i centri sociali anziani a Lecce, una possibilità prevista dal decreto legge del 18 maggio. Queste in realtà, alla stregua di altri luoghi di aggregazione, sono state chiuse all'inizio dello scorso anno con lo scoppio della pandemia da Covid-19. Presto, fanno sapere dallo staff del sindaco Salvemini, il Dipartimento Politiche e Sociali invierà una circolare con le informazioni utili a garantire la riapertura in sicurezza dei centri sociali anziani sui relativi territori. In base alla normativa nazionale, infatti, sarà opportuno porre delle azioni necessarie alla riapertura in sicurezza di queste strutture, sempre nell'assoluto rispetto delle misure di prevenzione previste. La risposta dallo staff del sindaco Salvemini è arrivata in seguito all'appello lanciato ai nostri microfoni, proprio da una delegazione di anziani che hanno fatto proprio a questa battaglia, per non cadere nell'isolamento spesso imposto dal Covid. Dallo staff di Salvemini, inoltre, tengono a precisare che non sono mai stati contattati da nessuno, anche perché laddove fosse accaduto un contatto, avrebbero provveduto ad informare subito gli anziani stessi che la riapertura era stata già prevista e organizzata per il 1 luglio.